Non basta una prestazione tutto cuore al potenza per reggere ad una straripante ternana le fere si impongono 2 a 0 al Viviani e mettono una serie a ipoteca la promozione in serie B agli Umbri infatti potrebbe già bastare un successo domenica prossima per festeggiare la prodo tra i cadetti vivace e ricca di emozioni la spida andata in scena in terra lucana nonostante un'altra abbondante nevicata che aveva messo a rischio la disputa del match tanto equilibrio nella prima parte di gara al quarto la botta di Conson viene murata da vantaggiato poi il sinistro di Salsano termina alto risponde il potenza al minuto 21 con il pericoloso cross dalla sinistra di Nigro che viene deviato providenzialmente dagli annarilli al 29esimo ci prova per le fere vantaggiato su punizione e sfera sull'esterno della rete la ternana spinge con più convinzione al 40esimo va in vantaggio Furlan riceve palla da Salsano e dal limite trafigge Marcone sul primo palo Umbria avanti 1-0 prima del riposo nella ripresa i ritmi restano alti con i rosso-blu di Gallo che cercano di contrastare la forza della capolista al 48esimo Marcone disinnesca il tiro dal limite di per alta un minuto più tardi sono vehementi le proteste del potenza per questo evidente contatto in aria tra Nigro e Suareg il direttore di gara lascia proseguire Umbria ancora pericolosi allo scoccare del cinquantesimo con il diagonale sinistro di Celli che finisce di poco a lato 60 secondi più tardi potenza vicinissimo al pari con Coccia che riceve un cross dalla sinistra e calcia di poco alto sopra la traversa la Ternana vuole chiudere i conti e manda in campo Falletti per Furlan il mio entrato scalda i guantoni di Marcone al 69esimo poi al 75esimo con un tiro ad incrociare non lascia scampo all'estremo Lucano firmando il 2-0 e ponendo il sigillo su altri tre punti pesantissimi per le fere nel finale di gara il potenza prova ad assaporare la gioia del gol al novantesimo il tiro di Coccia viene deviato in angolo da un super Iannarilli poi la bordata di Nigro dai 25 metri termina di poco alta sopra la traversa finisce 2-0 per la Ternana che vede sempre più vicino il traguardo un buon potenza deve invece ricaricare le batterie in vista dell'importante sfida salvezza di domenica sul campo della Viterbese grazie